In una tragica vicenda di violenza su minori, un giovane padre di 22 anni è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti del figlio di soli 5 mesi. Il bambino, ricoverato presso l'ospedale di Padova per accertamenti medici, sarebbe stato vittima di atti di violenza proprio durante il periodo di degenza. A fare luce su questa terribile storia sono stati gli investigatori della squadra mobile, insieme al personale ospedaliero. L'indagine, delegata dalla procura di Padova, ha portato alla scoperta di ripetuti abusi compiuti dall'uomo, che avrebbe colpito il piccolo durante l'orario di visita, certo di non essere osservato. Le gravi lesioni inflitte al neonato hanno aggravato ulteriormente le sue già fragili condizioni di salute. Gli agenti della questura, grazie a tecniche di sorveglianza avanzate, sono intervenuti fermando l'uomo che, secondo quanto accertato, aveva più volte perpetrato atti di crudeltà e maltrattamenti su minore. Ora il 22enne si trova in stato di detenzione nel carcere Due Palazzi di Padova. Le autorità hanno ringraziato l'ospedale per la preziosa collaborazione nelle indagini, mentre resta ancora ignoto cosa possa aver spinto l'uomo a tali atti di estrema crudeltà contro il proprio figlio.